All'inizio si era un po' scettico, però sono ricreduto diciamo. Anche a me è capitato quel giorno che magari mi lasciava andare, quella mezza giornata che magari avevo una scena o qualcosa, però non mi sono diciamo limitato. Però naturalmente al giorno non facevo mancare né l'allenamento, quindi anche mezz'oretta era importante, cioè anche fare solo un pochettino di aerobica alla fine. Però ne sentivo proprio il bisogno, ne sentivo, perché poi diventa comunque parte della giornata. All'inizio è stato naturalmente più difficile seguire il programma, però poi andando avanti con i mesi diventa tutto più facile, cioè prendi la regolarità del giorno, quindi un po' più semplice poi diventa. Poi vedendo progressi ti viene l'istinto di andare avanti, quindi già anche comunque dal primo, cioè si vedevano che comunque ero più asciutto, però per vedere più il fisico un pochettino passa un po' più di mesi. Ti devi impegnare per avere ciò che vuoi. Io non credevo di arrivare dove che sono adesso, diciamo.